Si riaccende la polemica sul depotenziamento dell'ospedale Renzetti. A rischio diversi primariati da Otorino, Laringoiatria, Laboratorio Analisi. La denuncia ancora una volta da Pino Valente che smessi i panni dell'associazione Amici del Renzetti Onlus ora indossa quelli del vice sindaco di Lanciano. Il piano aziendale che si sta predisponendo dovrebbe tagliare diverse unità complesse quindi i vecchi primari per intenderci dovrebbero essere cancellati dall'Abruzzo meridionale da diversi reparti sia qui di Lanciano che di Vasto. È un rischio grave che corre la sanità del territorio quindi noi chiediamo un confronto sereno e pacato per riflettere su tutto ciò che accade in Abruzzo le dinamiche delle spese sanitarie, il fatto che nell'area metropolitana c'è una sovrabbondanza di servizi che con questa razionalizzazione voluta dalla regione non si vanno a colpire per cui unire Lanciano e Chieti è stata una scelta purtroppo si sta rivelando sempre più sbagliata quindi noi chiediamo prima di procedere con eventualità a una riflessione complessiva su ciò che sta accadendo in Abruzzo su ciò che sta accadendo in ambito sanitario per razionalizzare i servizi nell'area metropolitana. Strascichi polemici anche per l'inaugurazione della tanto attesa risonanza magnetica nel reparto di radiologia uno scivolone della direzione della ASL dichiara valente al Tg Max che si sarebbe potuto evitare. L'amministrazione comunale che cosa ha contestato? Beh lì c'è stato effettivamente qualcosa che non ha funzionato alla conferenza stampa delle 11 che doveva essere convocata per gli addetti invece erano presenti tanti esponenti del centro-destra ed era completamente assente l'amministrazione comunale che era stata invitata alle ore 12, l'ora successiva. Abbiamo chiaramente fatto sentire la nostra voce perché sulla sanità, sull'ospedale l'amministrazione comunale c'è e ci sarà, farà sentire la propria voce sarà a fianco degli operatori sanitari, degli ammalati per difendere il territorio quindi non vorremmo che purtroppo un giorno di festa per la nostra comunità è stata leggermente macchiata da uno scivolone che si poteva evitare.